Ok, adesso fingiamo di stare male così viene la bagnina a salvarci. Guardala. Ma è meglio di pommela Anderson. Sì, facciamolo subito, facciamolo adesso. Aiuto! Signora Bagnina! Aiutalo! Oh mio Dio, ma sono in pericolo. Mitch, aiutali. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Madonna mia, ma che caldo fa! Ice bucket challenge? Ice bucket challenge. Dove vanno a farla quest'anno? Avrebbero tirato su il doppio! Anzi, il triplo! Ma sei serio? Ma cosa vuoi fare? Ma ti sei visto? Ma fai schifo! Lo vedremo. È la mia occasione. Conquisterò queste due giovani pulzelle con la mia arma segreta. Il tuffo olimpionico della morte. Siete mie babies. Che dolore! Bambina, chiamo un'opulenza! Bambina, bambina, bambina! Ma bambina è un cazzo! Adesso ti arrangi tu! Coglione! Ok, Jacopo. Siamo a metà luglio. Entro metà agosto devi perdere 10 chili, così dimagrirai ed eliminerai questo fisico da sollevatore di grappe! Dai che ce la fai! Dai che ce la facciamo tutti insieme! Ne doi! Eeeh! Finalmente potrò mostrarmi a torso nudo! e anche quest'anno userò la muta da sub ti piacciono i budini? oh ragazzi ho prenotato ferragosto sul monte bianco ma come sul monte bianco? a me le state piacendo in montagna e a capodanno? al mare ma che cazzo di problemi c'hai? ma dai ma sei scemo ma mettiti la crema guarda che poi ti scotti Jacopo la cremina è da checche e poi ho una melanina terronica non posso bruciarmi brucia! 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 si ma levati dal sole coglione il disonore del sud sei il disonore oddio ma dov'è la mia melanina? ho ancora troppo scotta ragazzi avete visto come sono abbronzata? no ragazzi avete visto come sono abbronzata? no ragazzi avete visto come sono abbronzata? cosa cazzo hai fatto? ciao ragazzi benvenuti nel nostro villaggio vi va di fare acquagym? no balli di gruppo? no allora la baby dance ho 30 anni abbiamo anche un sacco di attività adrenaliniche come il torneo di bocce quello di carte e anche quello che si faceva negli anni 80 quello proprio bello 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 ma basta veramente però ti prego mi cagli di insieme 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 si questa estate si esagera un mese in puglia e ci spacchiamo maledetti i debiti oh jacopo andiamo a provarci con quelli due vabbè non c'ho voglia sono in vacanza mi sto riposando lasciami in pace beh prendiamo un po' di sole non siamo coltano all'ombra no che poi mi scotto e lascia perdere vabbè un bagnettino un bagnettino no che ho appena mangiato poi mi rimano in qua solo e allora si dice non venire la prossima volta non venire stai a casa tua stai a casa tua io non lo so oh jacopo quest'anno ho vacanza insieme guarda che voglia tutti dove andiamo dai dove andiamo non lo so sentiamoci in settimana e ti faccio sapere va bene ok oh jacopo allora per le vacanze si scusami ho dovuto da fare ci vediamo in settimana e ti faccio sapere oh ma allora per queste vacanze ah non te l'ho detto alla fine vado con Marco a Corfu come vai con Marco a Corfu e io? eh eh se non ti svegli dai ogni anno ho sempre la stessa storia dai ma cosa stai dice ma tutti i giorni te l'ho chiesto ma allora sei proprio uno stronzo di che non venire in vacanza con me no Daniel si satana dove pensi di andare? ma dove penso di andare? in piscina e qua nooo hai appena mangiato devi aspettare almeno quattro ore ciao ragazzi ciao ragazzi siamo i Pantellas a questa ora cosa fai in estate se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su e a 80.000 like uscirà un nuovo video noi vi ringraziamo tantissimo per averci seguito anche questa settimana e ci vediamo prestissimo con un nuovo video eeeh un saluto pantelliano a tutti ahhh ahhh super dan quando sei single quando sei fidanzato peggio della grecia peggio della grecia eeeh vudi mi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.